Sì! Sì! Ah, Nicola, poteva mancare il barbiere? Uh! Uh! Che hai detto? Partire qui! Io so, babesho, 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 babesho! E so! Vabbè, dai, Nicola, ma barbiere! E non c'è differenza! Perché dal barbiere entri in un salone, dal babesho, entri in un'emozione! Ah, in un'emozione! Scusate un attimo! Vito! Chi è? Ma in italiano che cosa vorrebbe dire? Sbrigaci! Ah, tutto sta coso? È sintetico! Qui, qui non possiamo sbagliare! No, no, no! Qui la gente è di un certo livello! Un certo? Livello! Un certo? Livello! Sapete tra i miei clienti chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Fedez! Oh! Complimenti, complimenti! Stefan! Shushu! Quello è taccagno! Ma chi è Fedez? Ogni volta che viene mi fa barba e capelli, però lo shambo l'ho portato io, sai, sono contro gli sprechi! Magari attento! La schiuma da barba l'ho portata io, sai, sono contro gli sprechi! Ho cominciato lo shambo! Eh, perché? Eh, potevo usare l'acqua, però sai, sono contro gli sprechi! Che non si fa? Nicola! Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Che stai a fare con quel terzi cristallo? Non si fanno così i capelli a spazzola? No! No! Perché? Sì, non possiamo sbagliare! Qui è tutta gente di un certo livello! Un certo? Un certo? Un certo? Un livello! Un certo? Un livello! Senti Nicola, ne approfitto, ma per i miei capelli che cosa mi consigli? Ma stai a scherzare? I miei coni tieni tutte a portati di mano! Sì, bravo! Tiè, questi vanno benissimo! I temperini? E che servono? E per le doppie puff! Ah, smetti che non c'ho trovato! E per me non hai nulla! E stai a scherzare! Perché? Ne, per te ti do queste! Ma che devo fare con le manette? Per arrestare la caduta dei capelli! Stefano! Stefano! Io questi capelli te li devo sistemare! E tu? Te faccio un taglio chic con un tic! Oh no! No, Nicola! No! Mi dispiace, l'ho sentito! Non potete dire che non l'ho sentito! Ero lì, ero dissato, mi è arrivato questo tic! Basta! Sappiate che dove c'è un tic! C'è un altro tic! E c'è un tic tic! Vai Frank! Eh... Parababa! Parababa! Queti ti 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 Pinco, pe Queti ti 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 pot fallire! Sono al tuolo!